gli orientamenti di voto degli italiani. Lo vediamo con il cartello 5, vedete ci sono tre partiti che sono separati soltanto da un 1,7%, quindi diciamo che dal punto di vista statistico potrebbe esserci un'inversione di questa graduatoria, ma sono tre partiti attorno al 19-20%, Lega al primo posto 25%, PD col 20%, Fratelli d'Italia col 18-8%, a seguire il Movimento 5 Stelle a 17%, e poi Forza Italia che è la forza che ha fatto segnare la crescita più grossa rispetto a luglio, un punto abbondante in più rispetto ai sondaggi di luglio, con il cartello 6 vediamo le altre liste, le liste che sono accreditate di punteggi più bassi, Italia Viva, Europa e così via, attorno al 2%, e poi le altre liste, il 4,9%. Sottolineo che il 38% oggi dichiara di volersi astenere o di essere indeciso rispetto al voto.